Ma quante Italie conosciamo? Quella dell'arte? Quella della grande inventiva? Quella del talento costruttivo? Quella del paese pittoresco? Quella dei giovani che cercano un futuro? O quella capace di grandi imprese industriali? Noi possiamo scegliere quale Italia essere è il momento di decidere se essere noi stessi o accontentarci dell'immagine che ci vogliono dare. Questo momento è quello di ripartire. Ripartire nell'unico modo che conosciamo. Con il nostro lavoro e mettendoci alla prova. Perché in Italia ogni giorno c'è qualcuno che si sveglia e mette nel suo lavoro il talento la passione la creatività ma soprattutto la voglia di costruire una cosa ben fatta. Le cose che costruiamo ci rendono ciò che siamo. Nuova Fiat Panda questa è l'Italia che piace. è l'Italia che ci rende dovrebbe sapere è la tua dose. È l'Italia che ci rende la sua vita è l'Italia che ci rende